Potrebbe essere di appena 2.500 euro ciascuno il risarcimento assicurativo per i circa 40 clienti della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, le cui cassette di sicurezza sono state ripulite dai ladri domenica scorsa. Ammonterebbe attanto infatti la polizza sottoscritta dall'Istituto di Credito, una somma senza dubbio inferiore al valore del denaro e degli oggetti preziosi e di qualsiasi altro bene che è nella massima segretezza garantita dalle cassette di sicurezza i clienti avevano affidato alla banca ritenendoli al sicuro più che nelle loro abitazioni. I derubati avrebbero già fatto pervenire alla banca attraverso i loro legali richieste di chiarimento in questo senso. Per questo motivo non è quantificabile e probabilmente mai lo sarà il bottino reale del clamoroso furto portato a termine nell'Istituto di Credito nel cuore della Città Bianca nel primo pomeriggio di domenica. Sul fronte investigativo gli agenti del commissariato di Polizia di Ostuni e della squadra mobile di Brindisi sono al lavoro per cercare di individuare la banda sicuramente di professionisti che è riuscita a penetrare nella banca praticando un foro nel muro dell'attiguo istituto scolastico privato e che poi non riuscendo a forzare il cavò ha ripiegato sulle cassette di sicurezza aprendole con un piede di porco. I ladri hanno oscurato alcune telecamere di videosorveglianza interna alla banca ma gli investigatori stanno acquisendo i filmati di quelle esterne nel raggio di alcune centinaia di metri e poi allargando l'acquisizione a quelle più lontane perché la banda, fuggendo dallo stesso buco dal quale era entrata si è allontanata poi a piedi nella zona della villa comunale da chiarire anche il numero dei ladri almeno due con il volto coperto, quelli che hanno agito all'interno ma di sicuro c'era un complice ad attenderli in auto e forse un palo all'esterno dell'Istituto di Credito.